Fai presto! Oh, cazzo! È una toccata in fuga, fa presto! Presto, presto, presto! Ci siamo! Su, aiutami! Tirami su, su, dai! Che cazzo! Ce la fai? Ce la fai? Certo, certo che ce la faccio! Presto, presto! Adesso abbassami i pantaloni! Abbassami i pantaloni! Non ce la faccio, la faccia lei, cazzo! Come cazzo faccio? Sono handicappato! Abbassali, abbassali! Grazie, ci siamo, ci siamo, ci siamo, eccoli! Eccoli, che è fatto! È fatto! Abbassali le pantaloni! Abbassali le pantaloni! Abbassali le pantaloni! Una toccata in fuga, una toccata in fuga! Abbassato! Abbassato tutto adesso! Sì, mi siedono! Ci sono? Sì! Sei sicuro? Mi siedono? Cazzo, si siedono! Sì, si siedono! Adesso va meglio! Non le lezzo! Aspetti! No! No! I... te... Tu Chi... Ti... no, 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 no... Ti... Aua. Aua. Che cosa c'è? Mi hai dimenticata un po'. Cosa? Anzi, anzi. C'è il merda da boccato. Ce l'ho in bocca. Dovrei preoccuparti di ben altro che della merda in bocca se ci prendono. Ce l'ho ancora in bocca. No, no, tutto questo. Dai, levata. Lascia il dubbio che tocca. Oh, cazzo.